Salve a tutti, si avvicina la data del 15 dicembre a partire dalla quale scatterà l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. In questi giorni stanno pervenendo numerose richieste di chiarimenti su alcuni aspetti applicativi delle disposizioni introdotte dal DL172. Problemi non si pongono per il personale non ancora vaccinato, nel senso che a partire dal 15 dicembre naturalmente per potersi presentare al lavoro dovranno esibire un certificato di vaccinazione o la prenotazione per la somministrazione della prima dose di vaccino. Per il personale che invece ha effettuato già il primo ciclo vaccinale si è posto il dubbio su quando effettuare la terza dose. Facciamo una breve parentesi, col DL172 il governo ha ridotto da 12 a 9 mesi la durata di valita del Green Pass. Questo significa che completato il primo ciclo vaccinale con la doppia dose per i vaccini a doppia somministrazione, il Green Pass avrà 9 mesi di validità scaduti i quali cesserà di avere efficacia e si dovrà procedere alla somministrazione della terza dose. Quindi il problema della data a partire dalla quale effettuare la terza dose è collegato ai 9 mesi di validità del Green Pass. Pertanto nel momento in cui si è completato il primo ciclo di vaccinazione con la somministrazione della doppia dose, entro i 9 mesi successivi si dovrà prenotare o effettuare la terza dose di vaccino. Il governo ha chiarito in qualche modo questo passaggio con una recente FAQ in cui ha detto che chi ha effettuato il primo ciclo di vaccinazione non dovrà scaricare una nuova certificazione verde perché quella già in possesso ha una validità di 9 mesi e l'applicazione di verifica dei Green Pass in automatico ne vericherà la data di scadenza. ha precisato altresì questa FAQ che però è necessario ovviamente verificare quando è stata effettuata la seconda dose di vaccino per calcolare i 9 mesi di scadenza del Green Pass che qualora dovessero scadere prima del 15 dicembre ciò comporterebbe la necessità di prenotare la terza dose di vaccino per non incorrere nelle sanzioni previste al decreto legge. Vedremo quali saranno i nuovi chiarimenti che verranno emanati dal governo e dal Ministero dell'Istruzione in particolare. Grazie a tutti e arrivederci.